Il Presidente della Repubblica con decreto in data 19 gennaio 2018 ha nominato ai sensi dell'articolo 59 secondo comma della Costituzione senatrice a vita Liliana Segre per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale. Il vostro applauso mi risparmia, ma lo aggiungo ugualmente il caloroso e rispettoso saluto di benvenuto che io rivolgo alla nostra nuova collega.